Giornata aquilana per il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano che come prima tappa ha fatto visita al Teatro San Filippo, caso interessante della città che è pronto praticamente dal 2019 ma che non viene ancora riaperto per dei fondi che ci sarebbero ma che sarebbe complesso riaccreditare. Per questo si spera nel Ministero. Il Ministro ha assicurato che anche su questa faccenda comincerà subito a lavorare affinché si termini con gli arredi le ultime cose che mancano, anche i seggiolini. Del resto il ruolo di capitale della cultura 2026 impone anche un'accelerazione sulla restituzione dei luoghi. Il Ministero potrebbe sbloccare, accelerare anche questa pratica per dotarlo degli ultimi arredi che mancano e riaprire anche quello? Ho dato garanzie che immediatamente ci mettiamo al lavoro e in tempi brevissimi risolviamo il problema. Il Palazzo Margherita è stata firmata la Convenzione per l'affidamento delle attività di completamento dei lavori di miglioramento sismico, impianti e scenotecnica del Teatro Comunale tra Segretariato Comune Usna e Struttura di Missione. Questi lavori finali in pratica tornano al Comune che sarà stazione appaltante. Già erano stati annunciati 5 milioni nuovi stanziati per il completamento del Comunale, struttura essenziale per la vita culturale cittadina in occasione della visita del Premier Giorgia Meloni. Assolutamente abbiamo individuato una linea di finanziamento dei grandi progetti. Io voglio essere vicino a questa città ma per un motivo ben preciso è dovere di un Ministro della Cultura rivolgere lo sguardo verso questa città che è una città che esprime tanti valori identitari e tanti valori culturali. È una delle eccellenze italiane che deve poter declinare la sua cultura e farne una grande occasione di sviluppo socio-economico. Come dire, la capitale della cultura ha il coronamento di un percorso intrapreso dal Sindaco e dal Presidente della Regione e quindi sarà un grande momento che segnerà la rinascita di questa città grazie alla loro azione e noi ci siamo per dare tutto il sostegno possibile.